L'evento di domani, ovvero il torneo di Volley S3, dedicato ai più piccoli e lanciato a conclusione del progetto Bear School Volley, sarebbe stata non una grande ma una grandissima festa. I partecipanti sarebbero stati infatti oltre 200, più del doppio, rispetto a quanto annunciato la settimana scorsa durante la conferenza stampa di presentazione del Bear Wool Volley. Vista la situazione, però, il mini-torneo, solo quello, non si farà. Abbiamo deciso di rinviarlo, spiega infatti la vicepresidente dell'associazione Bear Wool Volley, Giussi Cenedese, perché il buonsenso ci ha detto di non rischiare. Con 200 bambini avremmo avuto anche qualche centinaio di genitori e di questi tempi non è proprio il caso di creare assembramenti. Poi, dato che questa manifestazione è per i bambini biellesi, niente ci vieta di recuperarla in primavera o più avanti, quando la situazione sarà migliorata. Per questo, precisiamo che l'evento è rinviato a data da destinarsi, ma non annullato. Ne riparleremo più avanti. Prosegue invece il lavoro dell'organizzazione per quanto riguarda il Bear Wool Volley, in programma, normalmente, dal 3 al 5 gennaio 2022. Stiamo, come tutti, aspettando la pubblicazione in gazzetta ufficiale del provvedimento governativo e il relativo protocollo FIPAM, aggiunge sempre Cenedese, ma siamo decisi ad andare avanti. Non sarà facile, ma ci stiamo impegnando a fondo per giocare il Bear Wool Volley 2022. Tornando al torneo rinviato, che avrebbe dovuto giocarsi alla palapaietta di Biella nella giornata di domani, va ricordato che era stato lanciato per chiudere, come già detto, il progetto scolastico e aprire, idealmente, il torneo di gennaio. Come spiegato durante la conferenza, il progetto è stato a suo tempo promosso per far conoscere ai più giovani il gioco della pallavolo, coinvolgendo tutte le società sportive biellesi e 18 allenatori, che, da settembre in poi, hanno affiancato periodicamente le insegnanti delle scuole per insegnare ai loro allievi la pallavolo. Sarebbe stata per noi la conclusione di un investimento in cui crediamo molto, perché quei bambini sono il nostro futuro. Per questo, lo ripeto ancora, conclude sempre Giussi Cenedese, dico che torneremo.